Ciao, grazie per aver visionato il mio video. Ti ricordo che per rimanere aggiornato ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche tramite la relativa campanella delle notifiche. Facendo così riceverai tutte le mie ultime notizie e inclusi anche i nuovi gameplay o live. Quindi io ti ringrazio e buona visione. Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Questa oggi siamo su Watch Dogs 2, ragazzi. Lancio la webcam perché c'è poca luce, c'è brutto tempo per cui essendoci poca luce non è proprio delle migliori il green screen. Quindi ho preferito non farla proprio, non metterla proprio la webcam. Ho abbassato un po' le risoluzioni del gioco perché ho notato che comunque sia di più delle volte crasha, cioè si è bloccato per il computer, per cui non vorrei che fosse quello il problema. Ovvero del gioco che non riesce proprio a sfruttare le risorse del sistema. Cosa molto strana. Ripeto perché su GTA 5 è un gioco molto più pesante di Watch Dogs 2 a livello grafico. E appunto GTA 5 è tutto maxato, anche le impostazioni extra. Comunque sia riesce a farmi i 60 frame, anche di più. Invece qui Watch Dogs 2 non riesce neanche a svilupparmi i 50, un altro po', cioè poche volte proprio neanche i 50. Neanche nelle zone chiuse in cui non c'è nulla da caricare, per esempio, appunto con le impostazioni però alte. Alte, medio-alte oppure, non so, molto alta, oppure adulta addirittura. Non riesce a sviluppare. Verco ho messo tutto a medio. Sarà un pochino brutto, le ombre vedete che sono un pochino più brutte, però... Ecco per esempio, prima mi stava sviluppando i 60, adesso neanche riesce a più a farmi i 60, che fps stabili proprio. E sto gioco è incredibile, comunque pazienza. E volevo dirvi che prima stavo registrando, si è bloccato tutto, il computer, e praticamente il video è andato perso. Cioè era corrotto, l'OBS purtroppo non ho potuto fare nulla per aver salvato. A proposito, che... Non carica nulla. Cioè guardate, spariscono subito gli oggetti. Vedete le gomme? Guardate? Incredibile. Questo gioco mi lascia sempre di più anibito. Comunque, appunto, ho perso il video, non ho fatto nulla. Purtroppo la missione Zodiac Killer, se vi ricordate, quella buggata. E non riesco proprio a farla. Quindi, cioè non mi da... Non carica, boh, non lo so. Quindi, boh, non lo so. E... Pazienza. Stavo facendo un po' di punti, avevo recuperato dei punti. E avevo sbloccato nei punti ricerca. Avvero un'abilità. Oh, vado a trovare. Dov'era? Questo. Abbiamo sbloccato il pestaggio. Ho trovato i punti abilità, e appunto l'abbiamo sbloccato. Ora, stavamo anche andando a fare un'altra missione. Perché appunto quella non va avanti. Ovvero verniciatura. Quindi magari riproviamo ad andarci. Meno male che ancora non aveva neanche iniziato. Andando. E appunto proviamo ad andare, va. Scatticchia, scatticchia tantissimo. Qui sotto inoltre ci dovrebbero essere dei soldi, ma non ho capito ancora com'è. Fare da arrivarci lì sotto. Ad essere sincero. Forse... Forse sapete cosa? Ci dovrebbe essere una diga? Forse ce la diga, eh sì. Non l'ho vista prima. Non l'ho vista prima, ma vabbè. Eccola qua. A me anche non sei gru, sei invece. E allora perché mi dice che... Sotto... No, non posso andare. Come faccio? Non lo so. Vabbè, una perdita di tempo, insomma. E... va. Andiamo... Andiamo fare questa missione verniciatura, va, dai. Andiamo un po'. Purtroppo gli FPS sono sempre bassi. Io non so perché, è sto gioco incredibile. È veramente incredibile. È una instabilità... Pazzesca. Però non so se nel video si... Sia la stessa cosa che vedo io. Adesso per esempio sta facendo dai 43... ... ai 50. Dovrei. Adesso? Vabbè. Un po' di meno. Però... Veramente, è una cosa... Incredibile, sto gioco. È una instabilità, ripeto. Che non lo so proprio io. Però... Facciamo una cosa. Io, ora, fermo il video e riprendo direttamente là, così tagliamo anche. La frò poco. Ok, ragazzi. Riaccomi di ritornato. Allora, qui ci sono delle zone... Vietate. Vietate. Sono delle zone vietate. E ci sono dei punti abilità che noi dovremmo prendere. Ora. Non so essere sincero. Ok, non è per me. Si stanno combattendo fra di loro. dobbiamo capire ancora... Ah, ecco, questa è la fabbrica in cui eravamo già andati. Raccogli. Adesso mi pacchi... Nelle vernici... Proviamo a... Terminare il circuito. Che devo fare sta roba... Ah, lì ci sono pure delle granate sticate. Si stanno dando di santa ragione. Non so se magari si eliminano fra di loro. Non so. Ok, la politica sta facendo il suo... Sporcola... Tra poco non rimane anche nessuno qua lì. Partire. Ci sta pensando la polizia a fare... Sporcola. Sporcola... Sporcola. Stiamo a divertirsi. Stiamo a divertirsi. Individuato un omicidio vicino alla vostra posizione. Arrecatevi sul posto. aia la SWAT ok, devo capire intanto come cacchio fare lascio bloccare la situazione credo che ne stiamo inseguandando oscure guarda, abbiamo segnalazioni di un sospetto terrorista invio dettagli in corso spagliatevi e cercatelo oppure no eh, sono a posto allora ma spagliamoci 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 ok ragazzi ho provveduto un po' eliminare qualcuno con la banda e adesso direi che possiamo anche provare ad entrare vediamo dobbiamo un attimino salire qui sopra perché poi con il jumper noi dobbiamo sbloccare il terminale che diversamente non si può sbloccare e li facciamo così saltiamo vediamo vediamo che non si distrugga 9-1-1 dichiari la natura dell'emergenza prego aiuto la spara... ok allora ora ora non so se possiamo anche raccogliere gli oggetti in realtà però possiamo profacci allora no un po' non si può salire tra l'altro allora dobbiamo salire qui sopra ah no va beh lì sopra col drone qua dobbiamo sbloccare questo e poi siamo a posto ogni puntabilità ce l'abbiamo boom adesso prendiamo il drone eccolo qua e possiamo fare i punti bene ce la possiamo andare il nostro lavoro qui è finito andiamo via andiamo via andiamo a fare quella magnifica missione che ci aspetta tra due chilometri ragazzi stiamo prendendo un punto abilità non abbiamo sbloccato questo inoltre ho trovato anche un modo per ehm vi faccio vedere ecco ecco c'è questo questa scala mobile non so come chiamarla e praticamente avevo trovato un altro punto abilità e noi proprio grazie a questa qui potremmo andare a prenderlo non so non so comunque ci andiamo subito andremo subito a vedere se il punto è possibile come c'è qui come cacchio ci fa ad entrare uno qui sotto vabbò no ho sbagliato ok allora andiamo subito a prendere quella ok quell'altro punto silenziano nero dovrebbe essere qui vicino dove sarà? eccolo qua boom dovrebbe essere quella ok è un po' lentuccio a muoversi per cui salterò direttamente lì che viaggio che ragazzi ci avviciniamo all'ora della verità eccoci qua e funziona devo dire e funziona devo dire altro sternuto non vi spaventate ah però ci sono permesso ok adesso possiamo scendere scendere boom ok e ora ovviamente io scendo vediamo se c'è un posto per saltare direttamente qui visto che sto perdendo tre ore a fare avanti e indietro e forse c'è qualche punto per fare trasporto rapido certo se l'avrei visto prima sei già arrivato ma non avrei preso tutti quei punti tutti vabbè due sono la fine vabbè due sono la fine hm 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 dai che ce la facciamo tra l'altro sto anche aggiornando dei giochi per cui qui sarà un pochino lento nei caricamenti però pazienza sta installando aggiornamento per cui è un po' lento abbia pazienza oppure potrei tranquillamente fermare la registrazione e riprendere appena finisce ok reccomi di nuovo e luogo scatauzzo vicino non so che come si faccia sta roba comunque aia perchè oh oh mi vuole ammazzare questo all'estate la polizia centrale a squadra il sospetto è ricercato per la scomparsa del coniuge richiesta la custodia per un interrogatorio questo bastardo mi ha picchiato arrestatelo che succede? che diavolo? guarda guarda sta scappando prendetelo bravi poliziotti i sui e si può scappare abbiamo solo delle domande da parte chiiii non provare a scappare ah ecco lo scatauzzo questo qual è bravo così che bello non saprei non voglio farmi male il sospetto esiste l'arresto ancora sta scappando mani in alto sei in arresto ok basta andiamo là tocca essere bravi per riuscirci ma che succede? wow c'è sto sbloccato è qui sopra ahia mi ammazza perchè tutti cercano di ammazzarmi oggi? ui stiamo sparando guarda che scappa sempre quello dov'è dov'è che devo salire? come faccio a salirvi sopra di qui? eh ci sono certe volte l'intelligence delle persone qui ma io dico no la Ubisoft quando sviluppa i giochi ma poi testa per vedere se sono corretti vabbè si testa si parcheggio questo parcheggio giustamente non ci metti un coso del genere sembra ovvio eh certo chi non lo fa? attenzione che adesso mi ammazzo e io dovei salire salire ok saliamo e non va più sei rapproccato sei rapproccato sei rapproccato eccomi qui andiamo a fare sta diamine di missione non so quanti minuti siano passati visto che sto avviando e interrompendo sempre dove sei lumaca? sto qui ti stavo aspettando lumaca ah almeno non sono sul palazzo sbagliato oh porca troia grazie per la mano tempo fa ero in un gruppo di artisti di strada mi hanno insegnato a vedere la città in modo nuovo a muovermi in modo nuovo non sono rimasta molto erano più preoccupati di vendere t-shirt che di lanciare messaggi dici che ce la fai? sì certo e che ci vuole? però non male sai? sì sì lo so ti mando qualche posto per cominciare fatti onore e vabbè iniziamo così noi tranquilli vediamo cosa bisogna fare ok lei fa tutto da solo alla fine mi sono completata a posto e che ci voleva? il ritorno del DedSec perfetto vabbè ci sono altri posti in realtà scusa non volevo ehi come va la start up? mi conosci più algoritmi più problemi insolito allora prendiamo un'auto e facciamo non lo so in realtà quanto siamo comunque di video però continuiamo a fare queste missioni missioni oddio possiamo fare il trasporto rapido qua questo cos'è a proposito? operazione secondaria ah retention camera lo facciamo andiamo qua finito di aggiornare i giochi eh dobbiamo essere più veloci i caricamenti già negozio che cosa compro? una t-shirt beh possiamo mettere qualcosa di nuovo non so esclusivo ah no voglio acquistare bello neva sta roba capone blu forse cinese cinese colpo di trasse di scertezze e questo è bello questo è vero completo cappelli si si diciamo questo da mafioso va ah ah bello si certo certo ah 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 si addirittura ok si ma che bello sono eh ho questi al capone beh sono un mafioso dai c'è nulla da fare mafioso 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 culerate sono dei miei che come faccio a salire di sopra ma luogo scout quale sarebbe quale sarebbe quale sarebbe è quello forse vediamo facciamoci un bel cheese quale quale cazzo sarebbe grazie per i soldi vabbè dai non perdiamo altro tempo come faccio a stare lì sopra qualcuno me lo spiega come faccio a salire lì sopra io non lo so picco questo da qua dietro lo so calma calma eh si sicuro c'è già una possibile strada possibile strada che ci vuole che sia se qualcuno chiamerà la polizia qualche volta fatto uno di tre sono curioso di sapere dove si trovano gli altri per mostrare vai qua da dove qui ci sarebbe un'altra cosa da fare ma sappiamo che non è facilissimo andiamo qua viaggio rapido chissà quanto stiamo di video wow sarà un video enorme questo per grazie per i soldi spazio 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 dà jullie soprattutto vi quote delle vuote secondo Sì. 3-4 le ruote. Perché non ci siamo arrivati. Anche perché non mi serve. Vediamo come salgo stavolta da qua. Andiamo nella zona vietata, mi so. Come salgo, come salgo. Oh, c'è un nuovo social network di YouTube, mi so. Non so come è che io faccio. Da qua. Ma qui? Non ci credo. Qui ci sarà qualcuno, mi sa. Di controllo. Sì, infatti. Ce ne è uno. Sì, infatti. Sono guia. Vediamo. Quell'è non? Dove? Cosa è? Sì, come ha! Voi? Cosa è? Non, come se è le fai! Sì. Ah, mi devo nascondere, perché sennò non c'erano cose brutte qua. Dov'è arrivato? Sì, mi arriva. Perfetto. Merda! Perfetto. Si decide. Qui non c'è, andiamo via! Boh. Tutto a posto. Tranquillissimi. Come faccio? Posso buttare tanto. Troppo rimango bloccato. No, non rimango bloccato, ok. Vai. Fai il tuo disegnino di paura. La notte del Dezzec. Ok, ragazzi, andiamo, facciamo l'ultimo punto e poi ci salutiamo anche per questo gameplay. So quanto sia durato, se molto o poco. Comunque, non so se questa sia una strada, non credo. Aspetta! Ah, ok, ok. Colpa mia! Da dove si sale là? Qua vedo però delle strade. Sì, sì, certo. Sì. Aspetta. No, sì, scusa. Sì, vedi, è che... Non lo so. Dove? Ecco. Qui c'è una scala, quindi... Ok, stammi a sentire. Ok, sì. Qui ci dovrebbe essere... Ma c'è un ponte? C'è qualcosa? Non lo so. Però non c'è nulla... Per salire. Oppure sì. Qualcosa in me c'è. Ok, di qua. Boom. Andiamo. Qua. Vai. Ci siamo, ci siamo. Manca sempre me. Ecco, terminale. Come faccio? Con il jumper. Oppa. E dov'è? Qua. Boom. Nel momento non si è bloccato, per cui... Spero che vada bene. Comunque... Eh... Hanno annunciato che stanno per chiudere Google Plus. Quindi forse hanno creato, non so, qualche altro social. Oppure hanno lasciato perdere. Noodle research. Boom. Ho fatto anche l'ultimo. Ah. Se lo dicevo. Perfetto. Io ti dicevo che era l'ultimo. Beh, una parte di missione l'abbiamo completata. Vabbè ragazzi. Io vi ringrazio per la visione. Vi lascio mettere un commento e iscrivervi. Non ci becchiamo nel prossimo gameplay. Mi raccomando. Non perdetelo. Eh... Domani che è domenica. Non so che gameplay usciranno. A sorpresa. Ciao. Ah! Ciao. Ciao.